Io ho incontrato una rappresentanza dei lavoratori non più tardi della scorsa settimana, partiamo da questo, perché sembra quando abbiamo dal primo giorno spiegato che non si stava prendo una filiale dell'FCA, ma si stava prendo una struttura che poteva assumere un numero di lavoratori. Abbiamo, dopo una lunga trattativa che è iniziata dallo Stato, Regione, Provincia, Comune, abbiamo sempre seguito con grande attenzione questa vicenda qui. Mi spiace dire che è abbandonato, non è stato abbandonato, io non penso che sia abbandonato nessuno, non è la mia natura. Allora, noi siamo arrivati con grande fatica laddove non vi era un vincolo e questo è stato detto dal primo giorno, l'azienda è stata molto chiara. Non abbiamo obblighi, perché loro non hanno avuto obblighi di assunzioni, in nessuna fase, non ce n'erano nell'acquisto del bene. La politica, la Regione prima di tutto, poi anche il Comune, però ha chiesto che vi fosse un contributo di solidarietà, perché un'attività che apriva per il Comune, Ponti d'Oro, perché significava non solo sottrarre un'area di smessa dal mio territorio, quella che sarebbe diventata l'ex gare, ma dare un'opportunità per dei giovani. La società, pur sapendo della non obbligatorietà, si è resa disponibile a valutare come ha fatto tutti e 150 i candidati dell'area ex garefu, cioè la società che si è occupata della selezione, ha bagliato tutti e 150 i candidati. Ovviamente, visto che ne assumi 40, di cui 30 nuovi, non puoi pensare che io assorbo tutti e 150, mi pare evidente. Di questi 150 noi abbiamo chiesto in un'ulteriore fase, e cosa che tra l'altro non sfuggirà a nessuno dei presenti e nemmeno al mio intervistatore professionista, che il sindaco non è che può andare lì e dire ti obbligo. Assolutamente no, però io seguo tavoli istituzionati da 7 anni. Fammi finire, ma è chiaro che il sindaco, forse solo il sindaco, è andato lì a dire perfetto, dammi una percentuale che puoi destinare al bacino ex garefu. Dopo una lunga discussione trattativa dallo zero, perché evidentemente l'azienda riteneva che non c'erano risorse che rispondessero al proprio profilo, l'azienda ha risposto all'appello destinando agli ex gare fu il 30% delle loro assunzioni. Parliamo di 8-10 unità, con loro, con noi si parlava di 8-10 su 30, è il 30% di quelle assunzioni che a me appariva già un buon risultato. Ovviamente io non posso andare dall'azienda e dire mo' ti dico pure quali sono gli 8 nomi, perché tu hai selezionato 150 nomi. Dove si ferma, dove si stringe l'imbuto? E che ho saputo non più tardi di una settimana fa, io ero garantito che loro avessero attinto 8-10 nomi da quella lista, che in realtà non sono questi numeri ma sono molto di meno. Io so due. Bravo, e l'ho saputo pure io una settimana, dieci giorni fa. Ho chiesto un chiarimento, avevo un appuntamento giovedì della scorsa settimana, ma tutte cose che sono state notiziate, gli amici che sono venuti a chiedermi spiegazioni. Ho spiegato che giovedì scorso per impegni dell'azienda non è stato possibile fare l'incontro. Da qui a qualche minuto io sto andando in azienda per chiedere questi chiarimenti, attenzione, per avere una spiegazione rispetto ad un impegno assunzionale. Impegno che non è obbligatorio, che è frutto di una coscienza dell'imprenditore che è venuto qui. Ma infatti noi pure come informazione non abbiamo mai messo sotto accusa la società e il globo. Io sotto accusa un po' personalmente, fammi dire una cosa solo al volo, personalmente ho visto partecipare molti consiglieri regionali a questa avvertenza, ho visto spendere parole, mi ricordo le campagne elettorali, pure quell'ultima alle regionali, ho fatto già dei nomi, mi ricordo Tommaso Casillo, Francesco Emilio Borrelli, tu stesso quando ti sei candidato a sindaco, che quell'area sembrava che dovesse diventare la spiaggia di Long Island, con il mare, le sedie e tutto il resto. Io vedo ancora una situazione molto disastrata in quel territorio, vedo un campo rom che insiste in quell'area e nessuno, insomma sono anni che si sono fatti battaglie su quel campo, vedo un'area ancora molto degradata, devo dire il vero che il globo ha fatto l'investimento e qualcosa, qualcosina lì sta cambiando. Però ho visto anche molti politici spendersi, mi ricordo a Barbato, vi ricordate Barbato, d'Italia dei Valori, che veniva lì a stracciarsi le vesti? Ti voglio togliere la parola e soprattutto... Non voglio fare un comitio. Ecco, bravo, se no diventa... Il politico sei tu. No, ma lascia stare. Allora, premesso, io parto da un rispondo del mio, non posso rispondere di terzi. Allora, io ti porto questo tipo di feedback che ho io. Mo lascia stare, accantoniamo un attimo la questione del campo rom che tu metti giustamente in evidenza, ma è un problema a sé più articolato, tra l'altro di recente anche sulla ribalta nazionale. che questo intervento, questo insediamento produttivo, oltre agli innegabili benefici che ha prodotto in termini comunque di una ricaduta occupazionale, ha riqualificato un'area che da oltre un decennio ormai era abbandonata. Ma sono d'accordo con te. Quindi, come dire, mi consentirai di dire meriti anche all'amministrazione che, come hanno stesso ammesso i titolari dell'azienda, non hanno fatto nulla per ostacolare i percorsi amministrativi finalizzando a questo obiettivo. E quindi la metto come un punto di orgoglio che oggi un imprenditore serio abbia investito sul nostro territorio. Detto questo, che io dal primo giorno avessi la certezza che l'unica iniziativa, cioè il quinto dell'insediamento produttivo, potesse risolvere i problemi del bacino ex carefu, non solo non l'ho mai detto, non l'ho nemmeno mai detto a loro, perché era evidente che se abbiamo 150 domande l'offerta è di 40, anzi di 30 perché 10 viene da 10 soldati, non avrei mai potuto assumere un impegno del genere. E forse qualcuno di questi oggi presenti dovrebbe ammettere che a differenza di tante altre chiacchiere che si andavano a prendere un po' dappertutto, il sindaco di Casori ha parlato dall'inizio, e mi augurerei che qualcuno alzasse il dito per dare conferma a quello che dico, ha parlato un linguaggio della verità. Non mi sono mai nascosto nulla, ho spiegato quali erano i passaggi, ho cercato di rendere partecipi e se ricordo bene, ma può essere che mi sbaglio, all'inizio le tante riunioni alle quali nemmeno ero convocato, che si facevano da altre sedi istituzionali o presunte tali, l'unico invitato che non c'era mai era l'azienda. Io questo me lo ricordo come uno degli elementi critici alle riunioni che si facevano in altri enti istituzionali. E forse l'unico che ha tentato di sdoganare un percorso diverso è stato proprio il sindaco di Casori. Attenzione, non perché il sindaco se ne voglia prendere un merito, ma per ripristinare la verità. Ora, io dico, rispetto ad una notizia che io non conosco, voglio chiedere, come farebbe un buon giornalista, la fonte e l'informazione e la certezza... Proveremo a sentire pure noi il globo per capire cosa può rispondere. Non male come idea, anziché, ottima idea secondo me. Chiederò a te il contatto diretto per parlare con loro. Guarda, io sto andando lì, quindi non ti nascondo che il tempo di parlare con l'azienda a me non dispiacerebbe. Chiedo stesso al momento, se tu sei in zona, favoriamo un incontro in modo che tu ci dai, ci dai, ci dai, dai anche il sindaco. Ti autorizzo a dare il cellulare al loro. Però ti chiamo io. Va bene, va bene. Sennò rischio che... Va bene, sono ancora in zona, ti posso raggiungere subito. Allora, io ti chiamo e ti dico, guarda, ripristiniamo insieme la verità, perché se poi c'è una verità, quella verità deve uscire, deve emergere, perché se uno mi dice A e l'altro mi dice B, io devo capire dove sta l'A e dove sta B. Ma se io in qualche caso ho messo sotto accusa la classe politica, l'ho fatto perché io stesso ho partecipato a questa... Cervo, ti fermo un attimo, perché se no diventi tu il politico. Bene, allora, ascoltami un attimo, lo so, allora ascoltami un attimo, il tuo ruolo è mettere sotto accusa la politica, perché un buon giornalista questo fa, ora il tema è un altro però, io non posso, premesso che questo lo ritengo un metodo sbagliato, perché dato che sono cose delicate, anche un'intervista, quella che sto rilasciando adesso, per me non è un modo giusto di operare, però visto che io non posso... Tu dici che noi stiamo forzando la mano... No, no, ovviamente non è a te il riferimento, dico che in genere se uno sta portando avanti un percorso alla luce del sole, ma dico certe cose possono dar fastidio all'azienda, possono dar fastidio, perché non ragioniamo con la testa del dipendente e del sindaco. Io però mi metto un attimo nei panni di quei 40, non so quanti sono, che il 31 dicembre 2017 hanno perso l'ultimo sostegno e sono capi famiglia, quindi credo che sia veramente complicato continuare a ragionare serenamente. Però Maurizio, penso che tu, che a questo punto completa l'intera osservazione, perché se tu sei preoccupato figura Dio, ora il tema è un altro però, non è quello di essere preoccupati per quelli che finiscono un ammortizzatore sociale e capire se abbiamo le possibilità di garantire a 40 persone un inserimento, perché se io ti parlo di una capacità funzionale di 40 persone, anzi di 30, io non penso che questi 40 non li possiamo salvare nel mio passaggio a Globo, su questo è pacifico, anche perché gli step successivi saranno di altre aziende che dovranno, altre 4 aziende che dovranno... Però posso dire pure che il tuo governatore... Fammi completare, poi mi dice il governatore. È chiaro che come sindaco e chi guarda un po' più distaccato, se riuscissimo a raggiungere l'obiettivo di collocare su ciascuna il 30% della loro capacità funzionale, che è un grande risultato, probabilmente noi abbiamo assottigliato di parecchio il bacino, ma questa è una cosa che va riflettuta, va ragionata. Non possiamo pensare che diventi tutto informazione, perché questa non è un'informazione. È un momento anche delicato dove c'è bisogno di fare delle riflessioni dove sono in gioco delle vite umane. Io dico fare delle strumentalizzazioni di qualsiasi tipo, men che meno, anzi ancora di più quelle politiche, diventa pericolosissimo, diventa affare pericoloso. Allora io dico un po' di equilibrio e anche di buonsenso rispetto a una situazione così delicata, prima di tutto ce la devo mettere io, la chiedo anche a quelli che oggi stanno nel disagio e dato che tutti navighiamo dalla stessa parte, perché si potrà dire tutto, ma non che il sindaco addirittura voglia affondare. Io non dico questo, fammi dire anche una cosa, solo una cosa voglio ricordare, voglio ricordare Certo, bene, chiudo un attimo e mi allontano, però io posso ricordare insomma il candidato alla regione, attualmente governatore De Luca, all'Ucicinema con 2000 persone ad ascoltarlo che faceva la sfilata durante la campagna elettorale regionali, lì all'Ucicinema, ve lo ricordate? No? Ucicinema pieno, si è parlato di quell'area, si è parlato dell'ex euromercato, si è parlato del campo rom, si è parlato di tutta quell'area, a Rostà, lo dico nel mio dialetto afragolese, a Rostà, che fine ha fatto? Voi l'avete più visto in quest'area? Io no. Non rispondo ovviamente. Io lo voglio dire, perché mi sento un attimo indignato, insomma, perché ci sono decine e decine di famiglie che soffrono qui da anni, insomma, e non bisogna giocare sulle loro speranze. No, ma tra l'altro, Maurizio, detto serenamente, poi sentiamo, ma io ti scuso però, se tu mi fai trovare un garbato amico con una telecamera, io ho l'obbligo istituzionale, personale, di rispondere prima di tutto al garbato amico che tu hai chiamato, perché poi nella vita bisogna essere corretti, sempre. Allora, visto che io ho trovato il garbato amico, io debbo rispondere al garbato amico, precisando che io tutto questo, alle 11 avevo appuntamento con gli amici dell'azienda per chiarire questa vicenda. Quindi, per quanto io posso continuare a rispondere... Facciamo una cosa, noi chiudiamo la diretta, chiudiamo la diretta, chiudiamo la diretta, salutiamo i nostri due spettatori, gli aspettiamo, gli aspettiamo, insomma, un contatto... Salutavo il canale. No, no, puoi chiudere, al di là della vostra bellissima tracchierata, noi non siamo qui, lo chiarisco con Pasquale, Pasquale mi conosce come sono fatta, conosce la mia trasparenza, ma soprattutto la mia onestà. Per chiarire, noi non siamo qui per attaccare il primo cittadino di Casoria, questo è da escludere, non siamo qui per strumentalizzare perché non permettiamo a nessuno di strumentalizzare sul nostro dramma e ci dovete credere, è un dramma che, ti ripeto, lo possiamo elevare alla massima potenza, ma non vi è un numero che lo possa quantificare. Noi siamo qui per dire a Pasquale, ancora una volta, c'è un dramma, un dramma che è sociale, che è soprattutto di carattere sociale, perché la problematica rimane su questo territorio, tutte le problematiche rimangono a lui come primo cittadino, perché è l'interlocutore in quanto la struttura che sta nascendo, sta nascendo su questo territorio. Ancora una volta gli veniamo a dire, c'è una situazione che dal nostro punto di vista non è chiara, non è trasparente, siamo preoccupati non per oggi, ma noi siamo preoccupati per la prospettiva, per quello che avverrà su quel centro commerciale, per le nuove aperture, quindi noi vogliamo capire il proseguo dell'avvertenza e vogliamo richiamare la Globo agli impegni. Questo è quello che siamo venuti a fare stamattina. Ma siamo noi che abbiamo un filo diretto con loro. Darti la massima soddisfazione. Allora, quando Mimma parla di mancanza di chiarezza, mancanza di trasparenza, io penso che è più chiaro di come sono stato. No, no, voglio essere pratico però, perché altrimenti rischiamo di andare fuori dalla traccia. Io dico numeri alla mano, un impegno del tutto non obbligatorio, ma che io ho molto apprezzato, della società aveva dei numeri. Ora, io voglio verificare, perché visto che abbiamo tutti e due la notizia che non sono stati rispettati quei numeri, io voglio capire che cosa è successo, se c'è stato un cortocircuito rispetto ad un impegno che, ripeto, è un impegno non vincolante per l'azienda, ma che si sono assunti come contributo di solidarietà. Va bene? Ora, fosse il cielo, aggiungo io, che tutte le aziende che vengono ad investire, qualora fosse confermato il dato, all'interno di quel complesso, assumessero sulle proprie spalle una percentuale analoga, ho ripetuto qual è il percorso e la visibilità. Ora, il tema non è tanto... Anello? Eh, scusa, una persona importante va a salutare. In diretta televisiva, ti ripeto, va a salutare. Il miglior dipendente comunale che abbiamo. Allora, quindi se noi mettiamo questa percentuale e la scaliamo sulle altre quattro attività, beh, io ho comunque ridotto, non so se ho annullato. Sì, sì, ma questo è ridotto. Allora, il principio, la visione a me è chiara, come penso sia chiara a voi. I temi sono un po' più articolati e qualcuno di questi li abbiamo sviscerati anche in sedi più opportuni di quella pubblica con il microfono e la telecamera. Quindi io penso che, come dire, o collaboriamo e capiamo che stiamo tutti navigando alla stessa parte o diventa un po' più difficile. Questa è un po' quella situazione.